C'era che bentornati sul mio canale YouTube, nuova settimana di collaso e viste le nuove SBC uscite, ovvero quella di Essien e soprattutto quella di Cantona e anche i tanti giocatori nuovi molto interessanti da provare, oggi torniamo con le review e proprio Essien e il buon Cantona vi vado a recensire e ci andiamo a vedere insieme anche quali sono le prestazioni in game del buon Rikikaka. Partiamo proprio da Michael Essien, una SBC dal costo più o meno di 900.000 crediti, un giocatore di 1,77m, alto alto il suo work rate, 4 le stelle skill, 4 il piede debole, piede preferito destro, mentre per quanto riguarda i ruoli parte da CDC ma può fare anche il CC, quindi canonici i suoi ruoli essendo un centrocampista abbastanza semplice da andare ad ibridare. Un giocatore non dotato dunque di un body type incredibile ma comunque grazie al suo work rate un giocatore che si fa sentire bene in fase difensiva e si fa trovare anche poi pronto abbastanza alto quando si tratta di dover ripartire e di doversi appoggiare sul centrocampista per fare poi filtro verso i nostri giocatori di riferimento in fase d'attacco. Per quanto riguarda le statistiche, ovviamente essendo anche abbastanza piccolino è un giocatore molto rapido, soprattutto palla al piede è un giocatore che comunque si muove bene, in mezzo al campo la sua velocità lo aiuta anche a scappare all'indietro per poter andare a recuperare gli avversari. Ha ricevuto un boost abbastanza random di tiro perché si ritrova praticamente un più 14 con 85 di finalizzazione addirittura, 92 di potenza tiro e 99 di tiro dalla distanza che però onestamente ci interessa ben poco perché parliamo di un giocatore che deve stare davanti la difesa principalmente come mediano senza queste grandi licenze di poter andare a infastidire poi l'avversario in fase offensiva per cui lascia un po' il tempo che trova. Per quanto riguarda i passaggi invece molto bene il 96 di passaggio corto meno il 92 di lungo che ci interessa anche qui poco per un mediano in mancanza di playstyle quindi molto bene il corto però che ci permette di poter andare a scambiare con i giocatori vicino. Per quanto riguarda il dribbling abbiamo un ottimo 80 di agilità 89 di equilibrio 87 di reattività che gli permettono soprattutto con l'L2 di poter andare a dare fastidio sulle linee di passaggio e proprio sulle linee di passaggio che però abbiamo dei primi problemi. Perché è un giocatore che è vero che ha 94 di intercetto 90 di lettura 93 di contrasto in piedi e 92 di scivolata per cui tutti i 40 dei parametri da top in fase difensiva però questo è un giocatore che essendo piccolino alle volte proprio non ci arriva sulla palla. Quindi non lo sentite presentissimo in fase di intercetto 86 l'elevazione che però purtroppo non aiuta essendo lui abbastanza piccolino 94 di resistenza 90 di forza 89 di aggressività che comunque completano il quadretto di un buon giocatore da schierare davanti la difesa. Però se poi noi andiamo a guardare i playstyle alla fine a livello difensivo tolto l'L2 dorato che non è che mi fa impazzire ed il procione nella sua versione base non ha questi grandi playstyle difensivi soprattutto gli manca quello che è il playstyle per eccellenza per i giocatori di questo ruolo ovvero l'intercetto. Difatti poi è accompagnato da un power shot plus dal passaggio incisivo dal passaggio calibrato dalla prova di pressing dalla batteria per cui tutto quanto un pacchetto di playstyle che lo rendono un giocatore quasi forse più da schierare mezzala che da schierare mediano. Tutto questo per dirvi cosa che a me giustamente non mi è dispiaciuto perché comunque è un giocatore che ha delle ottime statistiche però se proprio devo dirvela tutta con la presenza di un Viera a 300.000 crediti io non andrei mai a prendere un SN di 1,77 da schierare davanti la difesa non tanto per un problema di rendimento statistico ma proprio perché avendo un body type di un determinato tipo ha delle pecche strutturali per fare il mediano. Inoltre ha ricevuto pochissimi upgrade rispetto alla carta Toti motivo per il quale forse mi andrei a prendere più quella se proprio volete un SN in maniera tale che ce l'avete scambiabile e se volete cambiare potete cambiare rivendendola senza sprecare un milione di fodder. Quindi per il nostro amico SN io proporrei un grosso skip. Passiamo poi su Riccardo Isexson dos Santos Leite alias Kakà. Ricchi smoking bianco dai fasti del Milan ricordando il buon pelle gatti 1,86 m 5 le schille 4 il piede debole peccato mi sarebbe piaciuto che magari avesse anche la quinta di piede debole visto che già partiva da 5,4. Ha ovviamente come piede preferito il destro e può fare oltre al COC la D, la S e la TT quindi praticamente straperfetto per poter andare a sbariare su tutto quanto il fronte offensivo in termini di ibridabilità. È un giocatore che onestamente dal punto di vista della corsa ho trovato un po' discontinuo, il rapido plus lo aiuta tanto soprattutto nei cambi di direzione. Quando andiamo a fare i doppi passi riesce a performare abbastanza bene però sembra un po' risentire alle volte del gameplay. Ci sono delle partite in cui va via in maniera incredibile e delle volte invece in cui è un po' ciancicato, viene recuperato, insomma i suoi speed boost sono un po' masticati. Mentre per quanto riguarda la zona realizzativa molto bene, soprattutto sottoporta e anche con tiri leggermente da fuori, quell'89 di finalizzazione unito a 91 di potenza tiro e 89 di tiro alla distanza, soprattutto se mi andate a fare i timed finishing si sente veramente in maniera top. 92 di passaggio corto, 86 di passaggio lungo, bene bene, soprattutto se schierato da esterno riesce benissimo a convergere poi sulle punte, soprattutto grazie al passaggio calibrato plus e quindi quei driven pass che vengono fatti alla perfezione. Per quanto riguarda invece il dribbling, nonostante il 90 di agilità, 88 di equilibrio, 92 di reattività e l'81 di forza e avendolo anche poi giocato con motore, con i micromovimenti non è impeccabile. Certo non si muove malissimo però per via del suo body type diciamo che risulta un po' pesantino in quel fondamentale. Poi ha un ottimo 91 di resistenza, per quanto riguarda i playstyle, vi dicevo dei due plus, ha anche il tiro a giro bianco, il passaggio incisivo, il tiki-taka, il tecnico e proprio il tecnico lo fa discretamente bene, la pala latina è bella incollata ai piedi anche quando va a fare i cambi di direzioni che sono la cosa più problematica per giocatori con questo body type. Abbiamo il razzetto, la trivela, la calamita per ricevere i driven pass e controllarli meglio. Un giocatore che onestamente non mi è dispiaciuto ma che considerando il ruolo nel quale dovrebbe essere schierato, ovvero il ruolo di trequartista oppure di esterno, il mio consiglio è quello di andare su altri giocatori perché visto il suo prezzo, da esterno si ritrova un competitor che costa molto meno e che è a low run, che è molto più forte, da trequartista si ritrova un altro giocatore come Socrates che con i fodder magari pagate anche meno e vi assicuro che rende molto. Peccato perché potevano veramente farlo definitivo questo Riccardo Cagà, invece se vogliamo non è troppo dissimile dal tuo. Arriviamo poi all'uomo più discusso di questo video, già so, ovvero Eric Cantona. 1,88 per lui, 5 skill e 4 piede debole, alto normale, un giocatore che è di 1,88 come dicevo e quindi ha un body type bello importante, in game lo vedete che è massiccio come giocatore. Per quanto riguarda i ruoli parte da Tima vi può fare anche la TT e partiamo proprio dalla velocità come prima statistica perché anche lui come Cagà è un giocatore che ho trovato molto discontinuo sul piano della corsa, mi è capitato svariate volte che fosse recuperato da giocatori molto più piccoli di lui come ad esempio la Rolfo e quindi nonostante magari un parametro di velocità simile dovrebbero cedere tanto dal punto di vista dell'allungo visto che sono 10 centimetri in meno. Invece sto Cantona nonostante i doppi passi e nonostante tutto alle volte proprio non riesce a speedboostarsi e quindi sull'allungo cede un po' il passo. Per quanto riguarda il tiro ovviamente parliamo di un finalizzatore d'élite, 91 di potenza, 94 la finalizzazione, 92 il tiro dalla distanza, un giocatore che comunque quando si ritrova all'interno dell'area di rigore per buttare la palla in porta lo fa, mi è sembrato anche discretamente valido con i tiri a giro però dovete fare molto bene i timed ed è comunque anche in questo fondamentale un po' discontinuo perché non avendo playstyle sotto questo punto di vista fa un po' fatica a metterne dentro tanti. Per quanto riguarda invece passaggi bene il corto e bene il lungo, 87 e 94, per servire i compagni quando me lo giocate da esterno perché questo va giocato o esterno o trequartista. Per quanto riguarda l'agilità, 90, 90 di equilibrio, 89 di reattività con 93 di forza vi fanno pensare a un giocatore abbastanza pesante e invece questo Cantona con i micromovimenti non se la cava affatto male paradossalmente. Nonostante abbia un body type peggiore di Kakà si muove meglio lui e nonostante abbia più forza, questi sono i misteri della fede della programmazione, quindi anche su questo fondamentale qui l'ho trovato abbastanza interessante. Per quanto riguarda gli stili di gioco il tecnico plus è perfetto perché visto il suo body type prende un botto di campo, corre e se la cava benissimo, male il playstyle del palonetto plus non ci serve veramente a niente. Vi dicevo il tiro a giro infatti al playstyle bianco, il power shot bianco, il passaggio incisivo, il razzetto, le rovesciate, la trivela e il primo controllo scusatemi, le giocate di classe non ce ne può importare di meno, ci interessa invece il primo controllo per controllare i driven meglio. Un giocatore che tutto sommato non mi è dispiaciuto ma vi voglio ricordare il prezzo perché è 1.400.000 il prezzo di questo giocatore e onestamente se penso di schierarlo da esterno abbiamo un competitor che è quello di Aloha Iran che costa 600.000 crediti ed è molto più forte perché è molto più veloce, è molto più agile, c'ha anche lui 5.4 e soprattutto ha il tiro a giro migliore del gioco per cui molto meglio. Se lo devo andare a schierare da punta è molto più forte di Gino là perché ha il 5 piede debole cosa che Cantona non ha e anzi con il mancino è molto discontinuo, tante volte ve la butta in tribuna il nostro amico Eric nonostante abbiate visto magari anche dalle clip qualche gollettino fatto col mancino anche con time ad strani quindi da punta io ho trovato molto più performante Gino là che poi va anche più via con i doppi passo e infine dovendolo andare a paragonare da trequartista abbiamo un Socrates che è un demone e 5.5 anche lui ha i playstyle perfetti e soprattutto potete anche reinventarvelo poi in altri ruoli motivo per il quale io questo Cantona ve lo sconsiglio caldamente visti appunto quelli che sono i suoi competitors, visto il suo rendimento non ottimale e soprattutto visto che non è troppo dissimile dalla sua versione tua. Per altri video a tema FC24 non dimenticate di seguirmi e soprattutto fatemi sapere se siete d'accordo con le mie analisi su questi giocatori vi ricordo che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma Viola non mi resta altro che augurarvi una buona domenica un salutone da Vossi Beroschi e a presto, ciao!